Ciao Gnappa Family! Adesso sono qui con Mattia e Franco che stanno facendo un giochino divertente Per cazzo? Praticamente Mattia ha avuto la brillante idea di portare i 22 Vustel e sono avanzati Franco ha portato il gelato, perché non mixare questa coppiata vincente? Praticamente chi finirà per primo il Vustel mischiato al gelato al cioccolato avrà una ricompensa dalla propria fidanzata Fa vedere la fidanzata Una fidanzata? Vabbè l'altra sta a fare il video Ma se uno perde se la via Si Non avrà niente Se perde tutto non mette la fidanzata Se pareggiamo va fate tra voi due Non mi fate ridere che io mi porto il telefono Guarda che inquadreremo tutto, daremo il via Si Io mangio gelato Franco armato di forcone Problemi qui De pochetta Che mangio? Non so a mangiare Non so a mangiare Non so a mangiare Allora Si Chi conta? Teni conta? Tre Un, due, tre Un, due, tre Cinque Tre Ma è schifo ragazzi Ma attira la bava la bocca Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Ma perchè bagnate su un piatto solo? Zitto! Amo Devo il forchettone a vincere mai! Mi sto sentendo male, non ce la faccio! Ma perchè? Mattia hai capito lo scopo del gioco? Perchè mangiare roba sua? Ma che sta nel mio pranio? Oddio! Dove sta a cercare la schiena? Se ci sta nel gelato! Se ci sta nel gelato! Se ci sta nel gelato! A poco qui! Mattia ma carcelatola eh! Lecca! Dai Prada! 10! 9! Il gelato con il forchettone! E' il vincitore di questa sfida! E' Mattia! E' Mattia! E' il vincitore di questa sfida! E' Mattia! Io parlerei dei vincitori sinceramente! Sì! Mattia stasera avrà una sorpresa da democchio! A me? Due volte! Non una, due! Avrà una sorpresa da democchio! Sì! Ma devo aspettare un paio di ore prima! Il patocco! Io e Franco e Mattia vi salutiamo! Sì! È tutto! Alla prossima! Un'ambulanza ragazzi! Ah no aspetta è stufato! Ah no! Un'ambulanza! Iscriveteci nei commenti cosa vorreste fargli manià! Sì! Un'ambulanza! Un'ambulanza! L'ospedale più vicino a Ciampino che accade! Vale e vuoi! Aiuto! Aiuto! Non so senti i mani! Guarda!